E ballano anche loro E ragazzi come va? Io sono Feriniki E io sono Stefano che si giochiamo a Fling the Complex Ovvero un giochino molto particolare Degli Stickman, molto divertente Che sinceramente facciamo prima a giocare che a spiegare Perché è molto particolare Esattamente, non so se i consolini Sarà per la prima volta che mi vedranno con questi occhiali Perché non so se lunedì sera Riusciamo a far uscire un vlog Nel caso ho i nuovi occhiali e sembro Harry Potter E faccio adabra cadabra Comunque partiamo Allora play, io non so esattamente cosa sia un complex In inglese, però a me Sembra una specie di prigione Perché vedi è questa specie di fortezza qua Nella montagna No, sì, è una sorta di prigione Quindi dai, mettiamola così Sembra che scappiamo da una prigione Mi sembra giusto, mi sembra giusto È particolarissimo questo genere di gioco Ma secondo me è bellissimo e piangere un sacco Allora, questi siamo noi Ok, qualcuno ci sta minacciando Non capisco che dice Però secondo me ci sta minacciando Quindi c'è stato benvenuto La cosa particolare di questo giochino Ok È che noi siamo Andiamo avanti a stanze Ok, a luoghi E ogni volta abbiamo delle scelte Ok Devi azzeccare la scelta giusta Ho capito, ho capito il genere di gioco Però se sbagli la scelta Ti fa vedere comunque quello che succede Nel tuo fallimento Vedi le conseguenze della tua scelta Allora, io questa la so Vai Fingiamoci morti Ok È sempre la soluzione migliore Fingersi morto Ok, quindi noi siamo chiusi in prigione E facciamo finta di essere morti E proviamo a far finta di essere morti No, ci stanno portando a cremare, vero? Adesso ci bruciano vivi Guarda, guarda, guarda Tu hai voluto fare questa cosa Quindi adesso ti faccio vedere Cosa succede A scegliere una cosa del genere Ancora peggio Cioè vi sembra che un omore Lo buttate giù dal dirupo? Eh, oh, non hanno tempo qua Allora, possiamo provare Il boost up Di che si tratta Cioè fammi vedere un attimo Ah, per cercare, vedi Ti solleva su la ragazza Per cercare di scappare Ok, ok Ok, dai, vediamo Vai Lei ci sta, lei ci sta Ok Hopla Hopla Ok Secondo me ci scoprono È la scelta giusta? Cosa sta facendo? Ah, si è tolto le manette Possiamo scegliere Se andare di qua O ancora in alto O ancora di qua Così Ah, prendiamo lei Eh, vabbè Mi sembra giusto Perfetto C'ho anche aiutato Mi sembra giusto Sì, 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 sì Ok, ci sono delle guardie Stanno chiacchierando Tra di loro E noi siamo qua Che siamo nascosti Dobbiamo di sicuro Passare da qui Possiamo Provare a far finta Di essere un uomo più alto Ok, camminare Provare il take down Quindi stendere entrambi In modo sincronizzato Una cosa prima di continuare Ma questo gioco ha solo una via Oppure cambia Sempre in base a come viene giocato No, ha tante Cioè, ha un'unica via Ha tanti fallimenti E tante possibili vie No, una sola via Secondo me Ma ha tanti fallimenti Dici? Secondo me sì Però non ne sono sicuro Non lo so neanche io Secondo me ci sono anche possibili vie Comunque direi di provare Il synchronized take down Ok Vediamo se già facciamo Andiamo a stenderli insieme Mi sa che è andata? Che dici? Eh, adesso è più difficile Cos'è il Gravitor 2.0? Vuoi provarlo? Sì, vai proviamolo Vai proviamolo Ah, ok Cosa? Ok, no Ok, diciamo che non volevamo finire lì Esatto Lo sapevo che le cose tecnologiche Non funzionano mai Allora possiamo provare O un lancio di judo Oppure de force Cos'è de force? Fammi vedere Usa la forza Però funzionato Aspetta, eh Dai, non ci credo Ah, li fai anche così Funziona Abbiamo liberato tutti Sono arrabbiatissimi È bellissimo Il gioco più nel senso di sempre Ma è bellissimo È bellissimo Oh no Allora possiamo scegliere Tra granata e fucile da cechino Ah, ok Dobbiamo scegliere Ah, lei, ok L'arma per ognuno di noi Io direi granata e teaser Ok Non so perché Vai Mi sa che era un po' troppo eccessivo Ok, la granata Però il teaser Però era figo, eh Eh sì, perché io ho pensato Quella granata li distrai E li stendi col teaser Allora Prova E se proviamo così? Vai Oh no Fantastico Dannazione Che bello sto gioco Ma è bellissimo È bellissimo Sono fantastiche le idee che hanno Quelli che hanno creato questi giochini Perché Allora Io non ci arriverei mai Allora proviamo questa volta Con fucile da cechino Con il teaser Ha funzionato Ok In modo un po' particolare Ma penso che abbia funzionato Non l'avrei usato così Un fucile a cechino E un teaser E neanche io Però ha funzionato Quindi va benissimo anche così Allora vogliamo provare Ah Allora Vediamo Fa vedere l'animazione Tenere testa bassa Io proverei così Quindi passare Se fosse in quel momento Esatto Ok è andata Sì Ok È andata È andata Stiamo andando bene Ah no Perché uno ci ha preso per una guardia E ci ha attaccato Ok Allora qua sta succedendo di tutto e di più Il delirio totalmente No L'hanno rapita Allora Make a face Cosa fanno? Proviamo a fare una smorfia Magari lo confondiamo E riesce a scappare Che dici? Sì 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 aspetta aspetta Ok Cosa l'ha colpito una macchina? Mi sa di sì Io non sto capendo Allora Calmi Possiamo scegliere Se proverei a scappare da sinistra Ma se vedi c'è un burrone Dentro il furgone qua Ma se vedi è chiuso Io andrei di qua La cosa meno aspettata Eh no è tornato Ma lei scappa senza di noi? C'è abbandonato? Ma davvero? Non ci salva adesso? Ti prego Dai sì ovviamente Guarda la faccia Bellissima Ok Dai ce la facciamo Finito È finito Sì Praticamente Quindi avevi ragione Ci sono più finali E ne abbiamo fatto uno Ovvero quello che si fa Ok Ci sono più vie che si possono percorrere Riproviamo qualcosina Vediamo come va Sì Allora Proviamo ad andare da soli? Sì Dai vediamo come va da soli Se lo ricorderà dice Ce la farà pagare vero? Sì Ce la farà pagare Mi sento già in colpa Anch'io Torniamo indietro basta Mi dispiace un sacco Vabbè Vabbè Allora Quindi a questo punto abbiamo scelte totalmente diverse Allora io voglio provare con questo Scusami eh E gli fa Oh come on Litigano tra loro Esatto E noi ce ne andiamo Ok Perfetto Molto sensato Totalmente a caso ma le becco sempre È assurdo Ah stia voglia Voglia Ok siamo nello stesso punto di prima Ma stavolta non possiamo usare quello di prima Quindi Power jump Spring O long shot Power jump Vai Vediamo cosa succede Ok È andato Sì Ah beh Adesso comandiamo lui Esatto Vedi che è diversissimo Sto gioco Palloncino Bottone O bungee Bottone no Nasce il sole No secondo me ci scoprono Ah dici che c'è qualcuno dentro Eh non si sa mai E infatti No siamo noi Ah ok Ok avevo paura Tranquillissimi Che fosse qualcuno Con la musichetta Stratranquilli Ok ciao No Salve No no Non è stata una buona idea Buongiorno Tutto bene Proviamo col bungee Giusto perché voglio vedere cosa succede Come ci spezziamo in due Guarda Anche secondo me Ecco qua Quali sono le nostre gambe No il nostro stomaco Perché ci siamo spezzati Ok Allora il palloncino Ah lo usa così il palloncino Va benissimo Va bene va bene va bene Mi piace Secondo te era una buona idea va bene Ha funzionato quindi era una buona idea Comunque Ha funzionato quindi era una buona idea Oh mamma mia Allora mi piace molto il plunger boost Ok Però voglio partire dall'helium No è senza senso te lo dico è senza senso No vedi Stiamo nuotando È normale si fa così no Mi sembra giusto Adesso Adesso con la testa non ci fa Ah si sa anche sgonfiare Giusto Mi sembra logico Ha senso Ha senso Allora Cosa scegli vai scegli tu La scatola Come in Metal Gear Solid Ok Il primo che ti nascondi dietro le scatole Adesso fanno anche il punto di domanda di Metal Gear Solid Sì Eh dai Non la capirà nessuna come citazione Ma non la capiamo No certo Dai che sì No vabbè Si sono messi E dice Ehi almeno non ti hanno scoperto Grazie Rimarremo qui ad aspettare Anche perché ti garantisco Che le partite a poker Durano tanto Eh esatto Quindi non mi sembra Una buona idea stare lì sotto Esatto Allora quindi La scatola non ha funzionato La foglia non ho capito Cosa vorrebbe provare Però proviamo Quest'arma letale Stranissima Ok Ho paura che non funzionerà Anche secondo me Però vediamo Vai Siamo diventati un'ombra Sì Però sta facendo buio Ok Che cosa strana È troppo strano Ma chi ne ha pensate Sono bellissime Bellissimo Se ci siamo incastrati a metà Allora quindi la foglia E beh certo Sì 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 è normale Geniale Tutti i giorni Geniale Ti trasformi E voli E superi tutti E cosa scegliamo Il raggio Io sto per il raggio Vai il raggio Esageriamo Ormai stiamo cercando Di vedere i finali alternativi Esageriamo Finiamo sulla luna Secondo me adesso Arriva la ragazza Con i capelli rossi Ci ucci No non è stata una buona idea È uscito il paracadute Eh sì Troppo presto Capito Eh diciamo che Dice mi sa che hai sbagliato Qualche processo Allora il gommone Ma ci mangia uno squalo Secondo me Almeno col gommone Io dico Passi un po' più inosservato Cioè con la nave E soprattutto lo sai usare Capito E infatti Ci hanno appena notato Ci sparano vero Ci sparano No Ce l'abbiamo fatta Ottio Ghost inmate Ottio Oh yes Quindi tornando qua Guarda Vedi abbiamo tutte le altre vie Possibili E anche qua ti dice Uno su due Zero su due Noi possiamo rigiocare Addirittura questi Capito Sì Allora io voglio tornare con lei E distrarli Ma all'inizio Prima di scegliere Di andare con lei Potevamo scegliere Di andare in un'altra direzione E ballano anche loro Giustamente Che sensazione aveva Non lo so Era un momento felice Proviamo così Cos'era? L'uomo alto Buongiorno Siamo alti Dovrei passare Proprio Non ho neanche dubitato Cioè Terribile È terribile Ok E poi proviamo Il bounce bros Che credo che mi voglia lanciare Finito malissimo Quindi ti dice Tutte le cose Che puoi provare E ci sono i vari fail Qua ci mancava Il Ok abbiamo capito Che con le mosse Sono scarsi Ed è meglio non provarle Ma stiamo provando tutti È bellissimo Vedi due su due Tre su tre Qua cosa non avevamo provato? E questo Con questo Sì Ma perché? Perché era L'MLG 360 Anno scopo Capito? Dici? Sì È la classica cosa Che fai su Call of Duty Che fai il salto Girando intorno E spari la gente Ok ok Però è andata malissima È andata malissima Riguarda È perché è troppo bella Uè Mi dispiace Devi imparare A farlo meglio Mi dispiace È difficile Almeno È comprensibile Perché l'ha sbagliato Poi Quando eravamo qua Proviamo L'adrenalina Uh Siamo diventati Supereroe Ma ci ha steso In due secondi Perché ci ha steso poi? Ma non lo so È questo? You win Qua Probabilmente Proviamo lì Secondo me Se andiamo di qui Si cade Bello Bella scelta Era ovvio E invece da qui Secondo me Rimaniamo bloccati Sul cancello Vediamo se ha avuto ragione Su tutto In questo caso U Ho forse un altro modo Di scappare Questo È tutto buio No 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 Giusto Giusto Ah dice Te l'hanno mai detto Di non andare Di non andare nei camion Assieme agli stranieri Non te l'hanno mai detto Tua mamma Perché dice così Soprattutto se sono carcerati Sai In effetti Non è proprio l'ideale Cosa sarebbe successo così Dai sì Secondo me Si attacca Per terra Non riesce a chiamare Adesso si stacca e vola No Niente Addio E allora vediamo così Secondo me no Che è la cosa classica Che farebbe chiunque Però magari fa schifo in equilibrio Esatto Ed è pure rotto il tubo Quindi sai come non vanno mai bene queste cose Bene Benissimo così E poi qua mancano quelle Quando eravamo soli soliti Ah però qua non abbiamo visto cosa succede Sì dai Ormai li voglio vedere Tanto ci dà la possibilità di vedere tutto Sono curiosissimo Buongiorno capitano Ci abbiamo fatta Ci abbiamo fatta È un altro finale E siamo diventati i capitani E ti dice Pensi che nessuno della ciurma Avrebbe notato Che c'è qualcuno di strano O cose del genere Mi ero illuso Ormai E infatti ti fa illudere Poi ti dice No non va Qua invece Avevamo il pickpocket Che sarebbe rubarli dalle tasche Che mi credo No No È Skyrim È Skyrim E sei troppo pesante Per poter trasportare le cose Cale a terra Come su Skyrim Bellissimo È geniale E chissà quanti altri giochi Non l'abbiamo riconosciuto Esatto Perché questo punto secondo me è pieno Allora Stiamo facendo una melodia Ok L'abbiamo ipnotizzati Sì Ma è stranissimo Dici all'editura Trova tutti e 60 I fail possibili 60 Eh vabbè Eh vabbè Noi ne abbiamo 28 Quindi sono più del doppio Vuol dire che ci sono un sacco di cose nascoste Allora io direi che ci possiamo fermare così Però allora Aspetta Eh esatto Direi che ci possiamo fermare così Però vi diciamo una cosa Di questo genere di giochini Ne hanno fatto davvero parecchi Sono tutti super fantastici Quindi possiamo sia Vedere un pochettino gli altri tentativi Che si possono fare in questo Sia provarne appunto altri Perché c'è scappare dalla prigione Poi tipo qualcosa che ha a che fare con gli aerei Ho visto Ce ne sono davvero No ce ne sono davvero Tanti 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 Esatto Fateci sapere se non volete vedere altri Secondo me sono carinissimi E molto particolari Sono diversi dai soliti escape Quindi secondo me ci sta per spezzare un po' Provare queste cose Perché è più divertente Vedere anche le altre vie Vedere come sarebbe andata Vedere i fallimenti A me è piaciuto davvero tanto Quindi speriamo che vi sia piaciuto Votate nel sondaggio Fateci sapere nei commenti Lasciate likes Tutto quello che si può fare Per farci capire Se vi piace o meno E ci fermiamo così Bene che si dice così Sì ciò ciò Lasciateci un like E se la prima volta che avete visto il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao Ciao